Il 360 dispone di vari workspace adatti a compiere particolari tipi di disegno. Quello più simile a un 2.3D design è Model, che è quello che si apre automaticamente. Senza andare a vedere i dettagli di come creare un progetto, noterete che non appena aprite il programma, parte subito con un nuovo disegno. Per creare una figura primitiva, cioè la cosa più semplice da fare all'interno di un modellatore, aprite il menu Create, vedete che avete le figure primitive di base, quindi parole epipedi, cilindri, sfere, anelli e così via. Proviamo a disegnare un semplice box, selezionando prima di tutto il piano su cui disegnare, quindi teniamo quello orizzontale, poi andiamo a dire dov'è il punto di partenza, spostiamo il mouse fino ad arrivare al successivo punto della base, clicchiamo, dopodiché possiamo innalzare il parallelepipedo. Tutte le misure sono modificabili nel pannello laterale. Una volta che siamo soddisfatti di quello che abbiamo disegnato, premiamo OK e abbiamo disegnato la nuova figura. Una delle cose più importanti da imparare a gestire quando si apprende a utilizzare un nuovo programma di modellazione è capire come muoversi nello spazio. Fusion 360 utilizza un sistema leggermente differente da un 2D design, quindi è necessario avere un mouse con soliti due pulsanti e rotellina e scorrendo la rotellina modificate lo zoom. La seconda operazione per modificare l'inquadratura è il pan, cioè far scorrere l'immagine, questo si realizza premendo la rotellina e trascinando il mouse. Invece il terzo tipo di modifica della visualizzazione è la rotazione e si realizza premendo Shift la rotellina centrale del mouse e quindi spostando il mouse. Potete impostare a vostro piacimento la visualizzazione. Molto comodo in 360 Fusion e in tutti i programmi di Autodesk il ViewCube. Si trovate nella zona in alto a destra, un piccolo cubo con vicino una casetta. L'icona casetta serve per reimpostare la vista se vi perdete. E con il ViewCube potete impostare rapidamente le viste necessarie per lavorare, quindi per osservare le cose dall'alto, di fianco e sotto, un po' come quando si fa con le proiezioni ortogonali, quelle che si facevano una volta a scuola. Potete anche trascinare il cubo e ruotare la vista a vostro piacere. Nella parte inferiore dello schermo c'è un altro piccolo menu che riassume tutti i comandi per impostare la visualizzazione ed è molto utile se magari non avete un mouse o due pulsanti e state lavorando su un portatile. Qui avete Orbit per controllare l'orientamento della vista, poi avete LookAt che serve per puntare per esempio su una faccia e quindi centrarsi su quel particolare. avete il pan, queste funzioni si attivano con un click, dopodiché tenendo premuto Shift vado a spostare la scena per liberare Premo ESC. abbiamo i vari tipi di zoom e una cosa nuova per chi, infine una cosa nuova per chi non è abituato, per chi arriva da un 2-3 di design è la possibilità di importare le viste multiple un po' alla Rhino, quindi avere uno schermo diviso in quattro con quattro viste impostabili e sicuramente che si può tornare single view.